Scegli il libretto d'impianto Clicca sul libretto da compilare La prima schermata che vedi è quella della scheda d'impianto in cui andrai ad inserire l'anagrafica i responsabili dell'impianto e i dati dell'impianto stesso Clicca sul pulsante modifica Potrai così definire la tipologia di intervento e i dati dell'ubbligazione dell'edificio Nella scheda responsabile e bianto potrai selezionare dall'archivio anagrafica i dati del responsabile Nella scheda impianto invece inizia a definire i dettagli dell'impianto installato i requisiti soddisfatti la tipologia di fluido termovettore la tipologia dei generatori installati Apri la scheda trattamento acqua Clicca su modifica Qui puoi definire i dati sul trattamento dell'acqua di raffreddamento dell'impianto di climatizzazione estiva e la gestione della torre di raffreddamento Apri la scheda terzo responsabile Cliccando su questo pulsante potrai selezionare i dati del terzo responsabile direttamente dall'archivio anagrafica del programma Cosa hai imparato in questo video? Hai visto come si accede al libretto da compilare? Dove si inserisce la scheda impianto? I dati relativi al trattamento acqua e quelli relativi al terzo responsabile Guarda il prossimo video che mostra come continuare a compilare il libretto Grazie a tutti